Spiegare perché Erika Poli merita un premio avrebbe bisogno di una giornata intera, perché Erika Poli fa talmente tante cose che non si possono ridurre in maniera semplicistica. Però sulla targa c'è scritto che la premiamo tra le altre cose perché lei ha sistematizzato e divulga i principi della medicina integrata. Non solo perché c'è un libro da lei scritto bellissimo, ve lo consiglio, è là in fondo, e qui abbiamo anche l'editore, che è l'Anatomia della guarigione, dove lei spiega i principi della medicina integrata e io penso che chiunque fa relazioni d'aiuto dovrebbe leggere questo libro se non l'ha già fatto. Ma anche perché lei è l'esempio incarnato dell'integrazione di questi principi, nel senso che fa un sacco di cose e non le bastano mai. Io mi permetto di dire che Erika Poli è soprattutto una curiosa della vita incredibile. Guarda la vita con una curiosità inesauribile e non si accontenta. Ogni volta che attraversa un mandala ne cerca un altro. E in questa sua curiosità non si è fermata mai, non si è accontentata di essere medico, non si è accontentata di essere psichiatra, non si è accontentata di essere psicoterapeuta. Cerca sempre oltre. E quando lo trova lo condivide e ha la capacità di far parlare la medicina e tutto il resto. Per questo la ringraziamo. In questi casi non ci sono, a mio avviso, tante cose da dire, perché poi si sfocia nella retorica. Quindi dirò semplicemente grazie. Non soltanto a voi, che avete tanto organizzato ormai da quanti anni? Quattro. Da quattro anni, queste giornate, cercando anche di dialogare sulla coscienza in maniera profonda e anche leggera, vista la stagione, vista la luce che c'è fuori, visto il luogo e al tempo stesso con profondità. Quindi intanto grazie per questo. Grazie per aver pensato a questo premio. La cosa che mi rende molto contenta è quello che avete detto, quello che Gianpaolo ha espresso, che effettivamente è quello che mi conduce, o comunque conduce buona parte delle mie azioni. e cioè la ricerca e la condivisione di questa integrazione, che per me è un'esigenza prima di tutto personale e che, devo dire, viene anche dall'interazione con tutte le persone che in tanti anni ho incontrato. Quindi il grazie in questo momento va anche a tutte quelle persone. Alcune sono anche qui, che le conosco da tempo e ci siamo anche incrociati in percorsi personali e quelle che non sono qui ma comunque sono dentro di me, come io probabilmente sono un po' in loro e hanno fatto sì che questa ricerca andasse avanti, che è partita dai miei interrogativi e naturalmente ognuno di noi che fa questo lavoro parte dai propri e prosegue ad esplorare i propri ma si è arricchita degli interrogativi degli altri e grazie a questo il percorso diventa, come diceva Gianpaolo, curioso, interessante, entusiasmante perché è l'unicità di ognuno che rende preziosa l'esperienza. Grazie. Questo titolo, Nutrire la coscienza, è un titolo insidioso e quando un po' di settimane fa riflettevo su come impostare questa presentazione, questo discorso insieme a voi, dicevo certo che questo titolo è un po' subdolo, sebbene in linea con quello che si sente raccontare o si legge in un sacco di lezioni, testi che sono molto di moda ormai da un po' di tempo, sulla evoluzione, sulla crescita personale, sull'illuminazione, sulla spiritualità e sono convinta che li avete letti tutti, poi se siete qui un po' di percorso l'avete fatto. Però sono curiosa, peraltro sono le quattro del pomeriggio, qui c'è un po' di penombra, questi tendaggi verdi vi inducono al sonno e quindi io ho una curiosità e vorrei sapere voi che cosa, chiaramente non me lo potete, vi salvate perché siete tanti quindi non vi posso interrogare, quindi vi interrogate voi mentre io parlo ma non è che posso venire lì a chiedermelo quindi non siete al sicuro da questo punto di vista, però mi chiedo di tutte le cose che si leggono, si sentono poi alla fine che cosa vi rimane e soprattutto che cosa si traduce nella vostra vita e mi domando se poi queste cose hanno effettivamente una ricaduta sulla vostra vita oppure state peggio di prima, che è anche possibile, cioè è una delle opzioni, non è così scontato ci sono fior fior di maestri spirituali che ti dicono che non devi mica pensare che il percorso spirituale sia un percorso benefico, tutt'altro, anzi non appena lo intraprendi ti capita di tutto e stai peggio di prima, dici quanto mai ho iniziato, quindi mi chiedevo ma io gli vado a parlare per un'oretta circa insomma di nutrire la coscienza ma punto primo, sapranno cos'è la coscienza non perché penso che voi non lo sappiate ma perché in pratica, cioè voi uscite da qua stasera, domani, settimana prossima sul lavoro col marito, con la moglie, con la nonna, con la zia, col figlio, col cane cosa metterete in pratica di questa roba? Siccome io devo dire appunto sono una che ricerca però poi la più parte del mio tempo effettivamente nonostante si lamentino delle liste d'attesa e hanno ragione ma la più parte del mio tempo la passo effettivamente con persone che si suole chiamare pazienti ma che diciamo preferisco chiamare persone che mi si rivolgono individualmente per problematiche personali e che hanno già fatto decine di cose, percorsi, sedute, terapie, corsi, formazioni, illuminazioni, evoluzioni di tutti i tipi e arrivano comunque dal medico per un sintomo, dalla psichiatra per una depressione o dalla psicoterapeuta perché hanno dei conflitti nella loro vita e allora dico ma cosa gli vado a raccontare che sia, cioè che mi faccia sentire a posto con la mia di coscienza, capite? perché poi uno può venire e può raccontare delle cose meravigliose, no? si può fare delle citazioni stupende per il gusto di farle e per il vostro gusto di ascoltarle il che può essere una motivazione valida quindi siamo qua e passiamo una bella ora insieme e non c'è niente di male in questo è possibile che buona parte dei libri che sono esposti anche laggiù compresi magari anche i miei abbiano questa di motivazione l'ho scritto perché mi piace scrivere, mi sentivo che avevo delle cose da dire altri amavano leggerle va bene solo che appunto in questa esistenza ho diciamo tra i vari ruoli quello del medico terapeuta e si presuppone che il medico terapeuta abbia una qualche facoltà di non penso guarire perché la guarigione è un processo interno al singolo essere di cui il medico è garante si dice che medicus curat e natura sanat quindi il medico cura ciò che la natura risana quindi non ho la presunzione di guarire quantomeno però di supportare una persona che mi si presenta in un processo di guarigione che a mio modo di vedere è un processo che dovrebbe permettere di vivere questa vita cioè questa esistenza nel pieno di ciò che essa è e quindi cosa noto? noto che allorquando una persona non riesce a vivere appieno ciò che questa esistenza le propone cosa fa? va a cercare delle soluzioni altrove leggi, mago, cartomante, tarologo, astrologo, maestro spirituale, guru, gruppo, setta, quello che volete voi cioè va a cercare qualcosa che gli deve dare un elemento al di là della vita in cui si trova perché la vita in cui si trova gli fa schifo, va male, non riesce a risolverla allora va a cercare qualcosa d'altro e trova qualcuno, di solito, che offre delle soluzioni perché nel libro c'è scritto, il sottotitolo dice la tecnica che cambierà la tua vita, per esempio oppure il sistema miracoloso The Miracle Morning, stato un best seller negli Stati Uniti cioè dieci minuti al mattino che cambieranno la tua vita e vai a cercare questo tipo di soluzioni e il buon Jung, che è già stato citato prima dai miei cari colleghi Gian Paolo e Giuseppina aveva già capito questa cosa e metteva in guardia dallo spiritualismo in terapia uno dice ma come la dottoressa Poli che si occupa di integrazione dice queste cose è proprio per quello le dico perché tra l'integrazione e questo tipo di fuga dalla vita c'è una grande differenza, proprio abissale allora ho pensato che in un intervento in cui dovevo parlarvi di nutrire la coscienza dovevo parlare di questa cosa perché è venuto un paziente che peraltro è anche un collega terapeuta pochi giorni fa io riflettevo su queste cose e mi diceva sai sto facendo varie cose anche filoni che voi conoscete perché hanno visitato e visiteranno anche questo convegno mi piacciono molto perché imparo degli strumenti molto profondi, molto belli solo che vorrei andare in particolare mi citava una persona vorrei andare da lui e chiedergli una cosa ma se domani ti trovassi di fronte l'assassino di tuo figlio ipoteticamente hai un figlio, te lo uccidono, hai di fronte l'assassino la meditazione come la useresti? oppure come è successo a mia moglie mi diceva ti dicessero che hai tre mesi di vita e poi i mesi sono stati addirittura due ma diresti ancora che la guarigione non è in effetti il desiderio che necessariamente ci deve essere in un essere umano perché a volte va bene anche morire? e il tema non è dei più leggeri perché poi in tanti testi gli esempi sono se hai perso il lavoro se col partner non funziona vedo gente che annuisce poi però quando ti muore il compagno di una vita ti viene una malattia grave ti senti veramente profondamente prostrato queste soluzioni qua non so mica se funzionano almeno a me arrivano un sacco di persone che mi pongono la questione e mi dicono ma io veramente ho fatto un sacco di cose ma sono come prima sì ho capito delle cose ho anche cambiato forse qualcosa però il problema c'è lo stesso che ne dite? ha senso quello che vi sto dicendo? e vi ritrovate e allora io mi sono detta io cosa gli vado a raccontare? che presunzione ho io ad andare a raccontare che cosa rispetto a questo? sebbene effettivamente come medico e come terapeuta sia esattamente questo che le persone mi chiedono aiutami a vivere dammi qualche strumento perché io riesca ad andare avanti nella mia vita in una maniera differente poi alcuni vengono e mi chiedono i miracoli e allora devo spiegare che quelli non li faccio e non mi hanno dato questo brevetto per ora non so poi in futuro ma a parte questo in effetti le persone poi arrivano e ti chiedono questo cioè ti dicono ma io non la sento la voce interiore sono andato a fare tutte le sessioni c'è gente che visualizza delle cose pazzesche cavolo io non visualizzo quasi niente ma non è che devi visualizzare per forza bisogna per forza visualizzare oppure mi sono innamorata del tale solo che sono sposata e io non me la sento di lasciare il mio marito e chi ti ha detto di lasciarlo magari non lo devi lasciare magari non è detto che devi per forza prendere una decisione allora vengono dal terapeuta perché sono si dibattono si dibattono nella relazione con la vita che è la cosa che noi stiamo chiamati qua a fare quindi noi veniamo qua dotati di una fisicità e dotati di uno stretto legame con una naturalità corporea fisica di questo essere che abitiamo e noi cosa facciamo? nel momento in cui si presentano alcune questioni che sono connesse a questo stato non riuscendo a viverle come tali scappiamo tra le vite precedenti le vite successive quelle parallele e chi più ne ha più ne metta come si dice non si sa chi togliere per mettere perché poi ce n'è di tutti i tipi le tecniche di creazione della realtà la legge dell'attrazione ce n'è di tutto e l'unica cosa che non facciamo e che evitiamo costantemente ditelo voi si può dire in coro tanto l'avete capito è vivere allora forse nutrire la coscienza ha a che fare come sapevano i cinesi con nutrire la vita cinesi quelli della gopuntura della medicina cinese non quelli evidentemente della della produzione in serie negli scantinati con venti bambini prigionati non era questo il senso ma la gopuntura la medicina cinese la medicina tradizionale cosiddetta hanno delle terminologie ben precise per indicare il nutrire la vita è una buona rappresentazione di questo la si ha in una cosa che sta accadendo proprio qua fuori siamo in primavera cosa fanno le piante mettono i germogli mettono i fiori e si preparano a dare dei frutti tranne alcune che danno prima i frutti e dopo i fiori ma sono una minoranza la più parte seguono questo iter il germoglio il fiore e il frutto ma questa questo processo è un processo razionale è un processo meccanico no tant'è tant'è che i biologi adesso devono chiamare in causa i processi quantistici quest'altra cosa che è una panacea no se non sai dove andare a parare tu metti il quantico che bene o male qualche modo si farà no tanto nel quantico è tutto creato dall'osservatore no il pensiero crea la realtà e voi provate a pensare delle cose e poi non vi succedono e vi arrabbiate anche è vero o no è perché capite se no ci prendiamo in giro è tutto bellissimo ma è tutto qua e qua non ha mai cambiato niente nella vita delle persone perché la vita delle persone si svolge non solo qua si svolge qua si svolge qua si svolge qua no quindi evidentemente ci mancano dei pezzi se ci fermiamo solo qua e comunque i biologi devono tirare in ballo i fenomeni quantistici cioè devono tirare in ballo dei fenomeni che sono invisibili istantanei non dotati della legge causa-effetto sincronici per spiegare che cosa è la cosa più normale per noi del mondo e cioè che una pianta metta un fiore e poi un frutto anche perché senza quelli anche i vegani avrebbero dei problemi quindi voglio dire è fondamentale ebbene devono dirci che non si può calcolare e non basta avere semplicemente una pianta l'acqua e un po' di sole perché questa effettivamente fruttifichi ci sono degli altri processi che sono in realtà incontrollabili da noi noi li possiamo curare li possiamo preservare possiamo evitare che il freddo il gelo blocchino questa pianta che i parassiti la invadano se c'è gli ala possiamo curare ma noi non possiamo forzarla a fruttificare se non da frutti o evitare che fruttifichi se lo sta facendo e questo accade nel nostro corpo in ogni istante perché noi non possiamo per fortuna evitare al cuore di battere ma non possiamo neanche farlo battere se ha smesso di battere e così è per ogni processo della nostra vita allora francamente quando leggo che siamo i creatori della nostra realtà ho un momento di smarrimento perché è un'illusione è un'illusione pensare che tu crei la tua realtà o meglio che tu la crei con quella parte e qui vengo alla coscienza di cui tu sei cosciente cioè che tu identifichi con te stesso e qui sorge la questione noi identifichiamo noi stessi con una piccola porzione di noi che evidentemente non crea un bel nulla capite il paradosso quindi se vogliamo nutrire la coscienza oh lo possiamo fare infatti lo facciamo tutta la vita salvo che poi quando arriva il vero problema il vero dilemma della tua vita sei in realtà privo di strumenti perché hai nutrito esattamente quell'unica parte che a quanto sembra non crea un bel niente che è la mente intesa come pensiero razionale come parte cognitiva questa non riesce a fare nulla avete un bel dire voi ma io ho letto tutto il libro dei coniugi X io faccio tutte le tecniche prima parlavo con Igor mi dice ho provato la tecnica di Castaneda e l'ho provata e riprovata non è servita a niente ma per forza perché non la puoi fare qua non funziona quindi è un'illusione positivista allora nella spiritualità c'è più positivismo a momenti che nella scienza attuale perché almeno lo scienziato dice non lo so può darsi che questo esperimento funzioni come può darsi di no ci sono dei guru spirituali che ti dicono è così e non si sa neanche da dove l'han presa sta cosa ora gli scienziati sono noiosi e a volte anche molto chiusi però certi spiritualisti non è che stanno tanto tanto lontani da quella posizione quindi la questione comincia a diventare dal mio punto di vista certo più problematica però anche più interessante perché evidentemente c'è un principio o un ente o un'energia o un chiamatelo come volete voi o un sé per esempio avete sentito prima chiamarlo in maniera junghiana che crea la nostra vita esattamente come la pianta costantemente continuamente in una maniera che è al di là del nostro controllo è al di là dei nostri desideri tant'è che accadono cose che noi non vorremmo ragione per cui poi vogliamo creare la nostra vita imparare le tecniche perché non non mentite non è vero che voi volete creare la vostra vita perché siete animati da questo spirito profondo di illuminazione purissima voi volete imparare a creare la vostra vita perché non volete avere più le cose che non vi piacciono è vero o no? è tutto lì se voi aveste tutte le cose che vi vanno bene non stareste qui a dialoghi sulla coscienza è vero e la dottoressa Poli non farebbe la dottoressa Poli non avrebbe fatto medicina non avrebbe fatto psichiatria e non sarebbe qui neanche lei quindi nell'umana sofferenza c'è un motore molto profondo per l'evoluzione e non c'è purtroppo non c'è molto molto da dire su questo l'umana sofferenza è un motore evolutivo è una delle grandi molle per fare dei salti e se non ci fosse presumibilmente noi non faremmo quello che facciamo in buona parte con questo non sto dicendo che dobbiamo passare la vita a soffrire naturalmente anche perché c'è un modo di vivere la vita che invece può essere non sofferto ed è questo che a mio modo di vedere ha a che fare con nutrire la coscienza o mi piace di più nutrire la vita e quindi bisogna che cominciamo a considerare se volete naturalmente se mi volete seguire questo viaggio che c'è un principio che è cosciente ma non è cosciente come lo intendiamo noi e questo principio cosciente effettivamente ci crea come crea la pianta i suoi germogli il suo frutto ma lo fa in una maniera che a noi è sconosciuta quindi tutto ciò che noi possiamo indagare con le tecniche che conosciamo o che possiamo studiare o che possiamo leggere ebbene questo di fatto non avrà grandi ricadute su questa vita che procede dentro di noi perché questa vita va al di là delle parole una madre quando aspetta un figlio non è che sta tutto il tempo a dirgli cresci guarda la pancia e dice cresci aspetta aspetta lascia fare casomai prega che tutto vada bene spera gestisce le sue paure immagina immagina canta canta le canzoni che poi canterà dopo ripete il nome prova i nomi prova i nomi col cognome no ma non dice cresci adesso metti i braccini poi i piedini adesso adesso te lo dico io cosa devi fare no e la vita lì è chiaro che si sta generando si genera totalmente al di fuori di quella che noi chiamiamo coscienza allora qui bisogna rivedere la coscienza a questo punto perché abbiamo un modo di intendere la coscienza che coincide con il pensiero razionale cioè con ciò che noi intellettualmente diciamo di noi ma evidentemente non è questa coscienza quella che crea la vita e se non è questa potrebbe anche non interessarci al momento almeno per quello che sono chiamata io qua evidentemente a fare cioè aiutare per le persone e anche me stessa a vivere appieno questa vita c'è una coscienza che è diversa e che può essere conosciuta in altri modi alcuni li sappiamo e non sono diciamo sono semplici però non sono scontati allora io vorrei provare a dirveli perché un'altra cosa di cui mi sono accorta è che spesso noi diciamo delle cose e poi capirete perché vi faccio degli esempi ma ho visto sia su di me che su altre persone che non le abbiamo effettivamente incarnate cioè non le abbiamo comprese a tal punto da esprimerle come nostra qualità e vi faccio subito l'esempio essere presenti che è una dei modi in cui si conosce quella coscienza di cui parlavo prima non quella della mente alzi la mano chi non ha mai detto una volta ah ma ho capito che bisogna essere presenti o comunque chi non conosce la locuzione essere presenti due fortunate che già hanno un punto in più nel benessere è così però io vorrei sapere in pratica come lo traducete se qualcuno ha voglia di buttar lì senza che chiaramente non possono parlare tutti ma così di buttar lì tanto stiamo giocando essere presenti dai che che l'avete letto dai non fate i vaghi che lo sapete il famoso qui e ora il potere di adesso e devi stare me l'ha detto la nonna e lei è gravissima cioè lei è messa già male capisci perché gliel'ha detto la nonna quindi è già un imprinting va bene a questo punto essere nel qui e ora adesso voi mi spiegate concretamente che cavolo vuol dire perché non lo sapete perché è qui ecco allora lei dice arrivo adesso anche da te lei dice vuol dire non restare attaccate ricordi e non vivere proiettati perfetto adesso non voglio fare il tuo caso però se ti è appena morto il marito piuttosto che o tuo figlio sta per avere un bambino dalla moglie e avete paura non si sa se sta bene o no mi spieghi come caspiterina fai a non stare nel primo caso attaccata ai ricordi e nel secondo proiettata nel futuro ti ricordi che questa vita è illusoria oh ecco era lì che volevo arrivare ho una visione più distaccata ed è esattamente quello che accade in questi casi ovvero sia cos'è che faccio guadagno un distacco quindi mi ripeto delle cose mi dico che questa vita è illusoria ma il fiore sulla pianta e l'arancia che poi viene da quel meraviglioso fiore è illusorio perché se è illusorio perché lo mangiate e soprattutto perché vi fa bene quando lo mangiate perché se è illusorio possiamo farne a meno no cioè ci deve essere qualcosa che non torna in questa faccenda perché ci sono delle cose allora la vita è illusoria però ci sono delle cose che invece van bene che non siano illusorie com'è sta storia è vero o no poi qualcuno ce la fa di più qualcuno ce la fa di meno dipende da quanto è forte il vostro mentale lei ha un mentale molto forte e quindi si disciplina e dice questa vita illusoria ce la faccio lui prendo te a caso che sei qua ha un mentale meno forte è fortissimo lui ecco lui ha un mentale meno forte si strappa i capelli e piange però per ora ce li ha quindi si vede che ancora non gli è successo anzi li strappa a lui per quello che sono vicino e lui avendo un mentale forte resiste capite perché le questioni poi vanno vanno prese nella loro concretezza se no ce le raccontiamo allora ci sono delle cose che se sono materiali van bene delle altre che sono illusorie ma tu hai un bel dire questa cosa uno che è lì che sta piangendo e che sta male e io purtroppo ho un campione viziato da questo punto di vista ne vedo parecchi perché se vengono da me è ovvio che non sono nel pieno del loro equilibrio allora qui si pone una questione perché il distacco certo può essere una soluzione ed è quello che sembra non voglio dire che sia ma sembra essere effettivamente la via suggerita in molte discipline orientali dico sembra perché non è esattamente così in verità perché se poi vai a vedere noi occidentali le capiamo in questo modo perché abbiamo anche una mentalità occidentale che difficilmente può abbracciare il mondo orientale per il semplice fatto che nel mondo orientale non esiste l'io e non esiste alla base c'è una una condivisione costante in un gruppo in una coscienza che è collettiva Jung per noi ha parlato dell'inconscio collettivo ma noi occidentali abbiamo l'io della disciplina filosofica greca antica perciò per noi per quanto facciamo lo yoga lo pratico anch'io per quanto possiamo ripetere i mantra ma non penetreremo mai fino in fondo una logica che è così lontana dalla nostra e quindi poi finiamo per interpretare come distacco allora questa vita è illusoria e così via no? allora essere presenti per noi poveri occidentali mettiamola così io la traduco in un modo che mi pare che possa essere più concreto e naturalmente però pone delle questioni anche questo allora per me essere presenti vuol dire che il bello il brutto il buono il cattivo di quello che accade non richiede spiegazioni spiegazioni ovvero sia abbandono la ricerca della motivazione e la ricerca del perché che è l'esatto contrario di ciò che si fa abitualmente in psicoterapia perché perché se tu sei presente allora non te ne frega niente del che devi stare distaccato perché poi non è vero non è vero stai male stai male piangi piangi e meno male che piangi perché se poi non piangi le lacrime non piante vanno a finire nel corpo e gli organi sono costretti a gestire energeticamente i tuoi conflitti il che non è piacevole quindi va bene che tu pianga ma cos'è che distingue una persona che piange in maniera presente da una persona che piange in maniera non presente che la prima paradossalmente si lascia trascinare dall'emozione non nel senso che è priva di padronanza ma nel senso che permette l'esistenza di quella condizione e non si fa alcuna domanda su quella condizione non fa alcun commento su quello stato è allora lì è cosciente di quel tipo di coscienza che mi interessa raggiungere per poter vivere questa vita e cioè è nella vita pienamente in quello che è in quel momento l'altra invece persona piange e comincia a chiedersi perché e analizza e vuole sapere come mai e vuole indagare il passato e vuole sapere da dove viene e così in realtà non permette alla vita di essere vita perché non accetta la condizione di quel momento e quando dico accetta non penso che devi perdonare e devi dire l'altra frase micidiale tutto è perfetto va bene così ma non è vero non è vero perché tu non senti questo te lo dice la mente perché l'ha letto e cerca di essere brava nel dire nel ripetere a pappagallo quello che il guru di turno sedicente tale oppure anche tale ha detto ma non è quello che tu senti così sei più lontano dalla vita di quanto non lo fossi prima di entrare in quell'aula va bene che tu dica sto male ma qual è la differenza che non c'è niente da spiegare che il fatto che tu stia male non è straordinario fa parte di un'esperienza e se tu abiti quell'esperienza se tu entri nudo in quell'atteggiamento in quella condizione allora la tua coscienza si nutre perché si nutre di un'esperienza la quale tanto più intensamente sarà vissuta tanto più rapidamente evolverà esattamente come accade in natura tanto più forte la tempesta tanto più in fretta si esaurisce quando il cielo è plumbeo ma non riesce a piovere rimane plumbeo per tante ore ma quando si scarica si scarica perché la vita è un'onda è un'onda di energia allora essere presenti ha a che fare con smettere di spiegare ciò che accade al posto di viverlo così com'è il che non è affatto facile perché noi in realtà abbiamo la tendenza mentale a spiegare tutto e soprattutto a volerlo cambiare non c'è niente da cambiare nel Tao il concetto di migliorare è veleno è tossico è antivita non c'è nulla da migliorare perché secondo voi una pianta dice ah sì devo migliorare le mie foglie sì la produzione quest'anno il budget e devo chiudere il bilancio non lo fa non si pone questo problema e noi ce lo poniamo per il semplice fatto che è il pensiero che peraltro non è l'attività preeminente del cervello e questo è un altro un altro mito che voglio sfatare cervello serve per pensare ma non è vero il cervello fa un sacco di altre cose ben più importanti dalla regolazione della vita neurovegetativa alla regolazione della vita ormonale alla regolazione di tutte quelle che sono i feedback i feed forward cioè tutti gli stimoli mantiene l'omeostasi deve gestire il sistema nervoso periferico deve gestire gli ormoni e fare un sacco di cose il pensiero è un collaterale sapete qual è l'attività fondamentale del nostro cervello? l'azione in relazione a degli stimoli quindi essere coscienti vuol dire non spiegare niente non fare nessun commento sentire agire e la coscienza che è la facoltà che dice io sono tu sei cosciente perché riconosci che ci sei si arricchisce man mano cioè si crea man mano che tu fai esperienza non puoi nutrire la coscienza se non con l'esperienza e l'esperienza accade attraverso l'azione non attraverso il pensiero e l'azione fa sì che l'esperienza nutra la coscienza perché l'azione produce emozione che è un cambiamento psicofisico del tuo stato e l'emozione produce la consapevolezza tu non sei consapevole finché non avendo agito hai sperimentato e quando l'hai sperimentato sei diventato consapevole e allora la volta dopo hai un arricchimento nella tua successiva azione e la tua coscienza è cresciuta quindi nutrire la coscienza uguale nutrire la vita uguale vivere la vita e quanto più tu nudo puoi vivere la vita cioè senza le corazze che ti vanno a far cercare i perché i per come e in realtà a evitare ciò che accade quanto più tu stai calato nella vita tanto più la tua coscienza cresce lui dice ci bacchettano sempre poi bella l'uso del termine bacchettano perché poi uno si sente anche inadeguato ma dice ma è possibile che c'è tutta sta gente che ce la fa che medita che sta bene che è in pace cavolo io ho dentro di tutto la rabbia la paura la tristezza caspita faccio proprio schifo quindi produce oltretutto un altro deficit di autostima terrificante e lui dice ma ci bacchettano sempre sulla reattività e dicono che non bisogna essere reattivi ma bisogna essere proattivi allora la reattività è funzionale alla vita perché se non reagisci non vivi perché questa vita è una vita fatta di stimoli e reazioni solo che la reazione nel nostro caso di animali diciamo dotati di attività pensante logica molto molto sviluppata è una reazione che non non segue la spontaneità ma viene costantemente da una certa età in poi perché quando siamo molto piccoli naturalmente non è così ma da una certa età in poi viene repressa bloccata difesa evitata quindi noi siamo in una condizione quando veniamo al mondo di naturalezza e di spontaneità solo che ci manca la capacità di indirizzare queste forze che è esattamente una delle ragioni penso questa è una mia ipotesi per cui siamo qui cioè noi siamo qui a fare un'esperienza di fisicità di materialità di vita terrena in cui incontriamo una serie di forze e una delle ragioni penso per cui siamo qua è l'apprendimento della padronanza di queste forze di una maestria nel portare avanti queste forze allora quando siamo piccoli noi siamo attraversati da queste forze liberamente più o meno liberamente poi l'abbiamo sentito prima abbiamo anche dei copioni gestazionali e pre addirittura anche transgenerazionali o genealogici ma insomma ad ogni buon conto direi che la macchina biologica è abbastanza libera quando siamo piccini solo che non abbiamo la maestria di padroneggiare la forza e questa dovremmo apprenderla invece cosa succede? c'è una specie di bivio invece che padroneggiare imparare come si padroneggia ma sentendola veniamo istruiti perché a loro volta sono stati istruiti così ovviamente i nostri genitori a frenare quindi non siamo in grado di domare il cavallo e cavalcarlo lo mettiamo nella stalla lo chiudiamo oppure lo tiriamo con una corda o lo imprigioniamo da qualche parte quindi ci troviamo in una situazione in cui la forza vitale la vis la famosa vis che è anche una medicatrix cioè è un medico la forza della natura viene in realtà progressivamente ridotta tant'è che il nostro potenziale energetico si riduce la nostra se noi andiamo a vedere l'emissione biofotonica di una persona quello che per i sensitivi è non so Laura per dire ma si può misurare adesso cambia da un bambino a un adulto da un adulto depresso a un adulto che invece sta bene perché? perché abbiamo a disposizione sempre meno energia sempre meno connessione con la forza vitale originaria che è una fonte energetica allora le persone hanno paura di soffrire non hanno così tanta paura di morire questo nella mia esperienza ma molto più di soffrire perché uno soffre per mille ragioni soffre anche quando persegue la sua natura perché a volte perseguire la tua natura ti costringe a operare dei cambiamenti magari anche drastici che ti fanno paura e poi stai comunque male perché una persona la devi lasciare o perché un lavoro non va più bene e così via se tu segui la tua natura vai incontro a delle situazioni che dal punto di vista dell'organizzazione mentale non sono desiderabili allora le persone hanno paura di soffrire più che di morire hanno anche paura di morire ma la cosa che fa più paura è la sofferenza ed è quella che blocca di più allora cosa fanno invece che fare quello che vogliono agiscono in base a quello che vogliono evitare cioè non fanno quello che desiderano fare ma fanno quello che secondo la loro previsione evita quello che loro temono capite noi viviamo in questo modo ma questo non nutre la coscienza non nutre la vita anzi ci distacca dalla vita allora le persone hanno paura di soffrire perché non colgono una cosa fondamentale che quando noi soffriamo sta succedendo una cosa molto interessante dal punto di vista della coscienza vitale e cioè che e questo l'aveva capito anche Freud perché Freud in lutto e melanconia dice quando tu vivi un lutto e una persona muore c'è un certo punto tu devi lui diceva ritirare l'investimento oggettuale cioè tu hai investito delle energie su quella persona lì quella persona lì non c'è più tu a un certo punto devi prendere quel pezzo di te quel pezzo di tuoi progetti desideri emozioni coinvolgimento che avevi messo sulla persona e lo devi ritirare lo devi riprendere tu ma mentre lo riprendi quindi quando l'energia torna a casa il figlio il prodigo torna a casa deve attraversare questo lo dico io non lo diceva Freud deve attraversare il corpo emotivo quindi tutto il tema dell'attaccamento e dei legami e deve attraversare il corpo fisico che non a caso vengono chiamati anche corpi di dolore cioè quando la mia energia che io ho spostato su un altro la riprendo e quindi torna mia e quindi in realtà aumenta la mia energia l'ho ripresa ho ritirato l'energia da lì io però sto male perché perché il mio corpo emotivo e il mio corpo fisico sono attraversati dall'energia che io avevo messo su quell'altro e quindi vivono la recisione di un legame la recisione di un attaccamento in quel momento in realtà la mia coscienza si arricchirà di una maggiore energia perché l'ho ripresa ma io soffrirò in realtà però in quella sofferenza ci sarà un'evoluzione perché io acquisirò più energia di quella che avevo prima sembra un paradosso ma è così allora le persone cosa fanno hanno paura di questo e non fanno mai questo passaggio e non facendolo mai rimangono bloccate per esempio nella posizione del lutto o nella posizione depressiva perché perché sono a metà tra ritirare l'energia e non ritirarla perché nel momento in cui tu la ritiri è una morte effettivamente ma non è la tua e non è la morte della tua energia è la morte di quella dinamica che tu avevi creato ma quando tu fai questo in realtà tu stai recuperando energia tant'è che nelle tradizioni sapienziali ti dicono togli gli attaccamenti ma togli gli attaccamenti non vuol dire distaccati vuol dire ritira la tua energia da tutti i luoghi in cui tu l'hai posta e riportala nel giusto posto cuore dentro di te perché l'hai messa tutta fuori questo fa male all'inizio viene chiamato anche recupero dell'anima quando il percorso si completa quando il processo si completa tutto il dolore ha letteralmente drenato che cosa un'altra cosa che è l'identificazione tutto il dolore ha drenato le identificazioni che tu avevi fatto tu ti eri identificata nella moglie di nella figlia di nella mamma di nella collega di cosa succede l'identificazione che cos'è detta in termini concreti è che tu hai un album di fotografie ne scegli una e dici io sono questa quando in realtà tu sei tutto invece dici no questa foto sono io quella si chiama identificazione quando tu riconosci che tu non sei quella foto lì stai male ti fa paura perché l'identificazione ti protegge sei quello e sei tranquilla che sei quello in realtà hai perso energia perché se tu sei solo la moglie di tu perdi tutte le altre chance della tua vita allora quando ritiri quell'energia stai male ma quando l'hai ritirata tutta tu hai nutrito la coscienza perché perché ti accorgi di essere molto di più di quello che pensavi prima di essere quello è nutrire la coscienza è nel lutto è la stessa cosa nel lutto è la stessa cosa avviene la stessa cosa tu eri legata con la persona hai messo tutte le tue energie d'amore lì ipotesi cosa fai le ritiri e stai male perché ti sembra di perderle in realtà il processo drena tutte le tue identificazioni che avevano imprigionato la tua coscienza che è molto più ampia e quando tu ritiri quell'energia tu ti accorgi che l'amore che tu avevi con quella persona in primis sei tu quindi tu non hai perso nulla in realtà di te hai perso un'identità ma l'identità è contraria alla coscienza perché la coscienza quella della vita è quella della pianta che non sa neanche che pianta è semplicemente e si preoccupa solo di fare il frutto allora voi vi preoccupate di risolvere i problemi quando l'unica cosa di cui bisogna preoccuparsi è essere desti cioè sono sveglio in quello che sto vivendo punto è un problema non importa è un problema per chi per quale coscienza se la pianta un fulmine la rompe a metà dice che è un problema no è quello casomai mette dei germogli laterali fine allora nutrire la coscienza uguale nutrire la vita è stare in questa posizione che naturalmente non è assolutamente facile perché presuppone un ribaltamento di quella che è la nostra logica abituale e presuppone e qua a questo punto chiudo una cosa che in realtà cito il Tao ma si potrebbero citare anche altre fonti ma quella è abbastanza facile nel Tao si chiama vuvei cioè non fare nulla non agire dove Confucio dice una cosa interessantissima e dice non è desiderabile quindi qua vengo al discorso che ho detto che avrei detto qualcosa sul desiderio perché anche qui non avere desideri altra bufala perché è ovvio che ce li hai no non avere aspettative palle ce le hai ma qual è la differenza è che un conto è se tu metti le tue energie nel perseguire uno scopo e quindi sei orientato al risultato e alla soluzione questo è contrario alla vita un conto è invece se tu metti le tue energie nell'essere spontaneamente come ti viene cosa per noi difficilissima perché siamo animali sociali e quindi continuamente condizionati ma il bambino lo sa il sole bambino che rinasce in te sa come si fa se tu metti le tue energie nell'essere spontaneamente ciò che sei allora dice Confucio tu sei come la natura non devi fare nulla perché tu fai solo in base a ciò che sei cioè tu emani non è che agisci perché persegui uno scopo intenzionalmente voglio quella cosa lì ciò che tu vuoi e ciò che tu sei coincidono per il semplice fatto che non potresti che fare ciò che vuoi e ciò che sei una pianta non può che fare il frutto punto e fa quel frutto e non un altro non è che dice l'arancio dice ma dovrei essere un mandarino no e non è che il fegato dice aspetta che faccio la milza no fa esattamente ciò che è e dunque il suo fare il suo essere coincidono e confucio dice dov'è la difficoltà che per fare questo e dice che è tale di per sé questa è la questa è la definizione è tale di per sé io sono quella che sono di per me non perché mi sforzo ok così per ognuno di noi dice la difficoltà qual è che per fare questo bisogna avere occhi abbastanza svegli per vedere e forza abbastante per rimanerci perché la nostra tendenza è andare via da lì fare andare a fare qualcos'altro allora perdi la tua coscienza di vita io su questo mi fermo però permettetemi solo di far vedere una immagine perché così vi rimane in mente stiamo facendo al centro di Milano un bellissimo lavoro con Daniele Gullà in cui misuriamo i campi elettromagnetici e le emissioni biofotoniche delle persone e del terapeuta durante le sedute cioè andiamo a vedere gli aspetti energetici delle emozioni e vi voglio far vedere che si vede benissimo così capite che cosa ho inteso dirvi una forma pensiero che possiamo leggere anche come difesa questa persona a parte che non è riconoscibile ma mi ha dato il consenso a far vedere le immagini allora qui non vi sto a spiegare ma sono dei macchinari brevettati da questo ricercatore dell'università di Bologna che si chiama Gullà faremo anche delle cose insieme più avanti misurano i biofotoni il campo elettromagnetico quello che per un sensitivo è l'aura per intenderci ma in maniera molto più sofisticata e registrata scientificamente non vado nel dettaglio si potrebbero far vedere tante cose abbiamo trovato già che emozioni ed energia hanno una corrispondenza nettissima nei cambiamenti di questi campi energetici ma rispetto al discorso che vi ho fatto oggi vi faccio vedere una cosa a un certo punto durante la seduta questa persona entra nel loop che vi ho raccontato che è quello che viviamo tutti noi e cioè il cercare spiegazioni e motivazioni per uno stato e guardate che cosa accade quello io lo chiamo difesa o si può chiamare anche subpersonalità cioè quello che ti impedisce di vivere e guardate che cosa succede nel suo campo energetico lo vado un po' avanti eccola tra poco dovrebbe eccola qua allora lo vedete che il campo energetico che prima aveva una sua manifestazione lo vedete che comincia a riflettere il suo profilo come se fosse veramente un'altra persona lo notate ok a un certo punto si vede proprio la forma pensiero la forma pensiero è di fatto un'identificazione cioè tu sei identificato fondamentalmente nella idea che tu hai di te eh ce ne sono altre ma adesso perderei troppo tempo perché sono tante immagini ma l'idea è questa quindi se voi avete in mente questa immagine lei è come se avesse un doppio quel doppio è quello che si chiede il perché il per come che commenta le cose e che vive al posto suo e che è una coscienza parassita detta anche difesa o resistenza difesa da cosa o resistenza da cosa dalla vita allora nutrire la coscienza è lasciare andare quel doppio lì che non è quello che sei tu perché non fa quello che fa la pianta e su questo mi fermo grazie a tutti grazie a tutti